Buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento con le nostre storie, storie di tutti i giorni che vedono protagonisti personaggi, personalità, ma anche persone, come vogliamo dire con la nostra trasmissione, anche non conosciute che però svolgono attività molto apprezzate o comunque sono impegnate nella loro vita quotidiana e che vale la pena di sottolineare e di far conoscere. Oggi il nostro ospite è graditissimo, è un artista tutto tondo, a 360 gradi, molto conosciuto, molto apprezzato, ha cività vecchia da tanti anni ma ormai ha avvarcato gli ambiti territoriali, è andato oltre i nostri confini, si tratta di Maglio Miglio, qui do il benvenuto oggi, è un ospite con cui ci intratterremo per farvi conoscere meglio, più approfonditamente quelle che sono le sue attività prevalenti, nasce molti anni fa nel tempo quindi, ma la sua attività prosegue a tutt'oggi. Io sottolineo soltanto il suo impegno nell'attività un po' sconosciuta e che lui ha rilanciato, di cui parlerà naturalmente, l'attività del riciclo, di recupero di materiali abbandonati, scartati, che possono trovare una nuova vita attraverso proprio l'arte, il maneggio di queste mani così particolari. Allora ancora benvenuto a Maglio e poi manderemo in onda un video che racconterà un po' tutta la tua storia. Allora, come inizi e come parte la tua passione tanti anni fa? In parte, svariati anni fa avevo un negozio di artigianato, facevo lampa di esordinazione e a un certo punto ho deciso che non era poi quello che volevo fare fino in fondo, per cui ho iniziato a inventarmi, a inventare le lampade e inventando le lampade mi sono reso conto che riciclando materiali che le persone scartano si potevano avere dei risultati molto molto interessanti. Infatti ho iniziato a lavorare con bottiglie di vetro, barattoli e tutto quello che in qualche modo mi dava la possibilità di poter inventare e creare qualcosa di luminoso, perché la cosa che mi interessa più di tutti è il fatto che queste cose poi abbiano una collocazione di vita, cioè la luce, e la luce è quella cosa che ti fa vedere quello che c'è intorno, senza la luce è difficile. La luce è vita comunque, quindi è espressione che dà la vita tutta intorno a noi, naturalmente si può apprezzare anche il buio per carità, perché ci sono anche cose che si svolgono di volte, infatti la luce si apprezza perché c'è il buio. Maggiormente, certo, e questa è una connotazione importante. Allora, hai detto sei partito e continui con le lampade, ma la tua attività non si ferma qui, perché tu crei anche altro. Vogliamo ricordare intanto un particolare che noi abbiamo rivisto di recente nella commemorazione dei bombardamenti su Civitavecchia, l'anniversario, ricordiamo, l'improvviso arrivo dei bombardieri americani, terribili, che hanno causato tante morti nella nostra città e che tu comunque hai voluto collocare in un posto proprio dedicato alla memoria. Intanto li manderemo e li faremo vedere. Di che cosa si tratta Maggio e perché ti è venuta questa idea? Beh, è venuta questa idea soprattutto perché commemorando tutti i morti che ci sono stati a Civitavecchia per quell'immane tragedia e l'idea che c'è avuto è di mettere delle sagome che rappresentassero i cittadini civitavecchiesi sotto un bombardamento, quindi delle sagome in legno in quel momento, perché era il momento più facile, cioè il materiale era più semplice da lavorare, era il legno. Per cui queste sagome che rappresentano appunto la tragedia che si è creata in quel periodo, quindi sono sagome nere che sicuramente sono collocati in un posto interessante perché se guardate intorno a quella collocazione ci sono delle scale che salgono, cioè dei tronconi di sale che scalgono. Ricordiamo che si tratta di Via Trieste dove c'è appunto ancora… Il momento che ancora c'è, ci sono mattonelle a graniglia che si usavano in quel periodo. Sarebbe bello se si riuscisse a sistemare quel luogo e dargli la giusta dignità che merita insomma. Sì, oltretutto andrebbe magari… c'è una targa che ricorda, che commemora quell'evento tragico in italiano, di lato, si vede poco, andrebbe magari anche scritta in inglese, in spagnolo, in tedesco, insomma, per dare modo ai numerosissimi turisti che spesso sostano proprio lì di fronte e che non sempre riescono a cogliere pienamente il significato di quella che vuole essere quella testimonianza. Infatti quelle sagome dovrebbero essere retroilluminate con un sensore di movimento, per cui quando le persone passano davanti si accendono le sagome, cioè il retro delle sagome, quindi c'è una cornice intorno a queste sagome di metallo, che ora sono di metallo, per cui danno un effetto molto scenografico e interessante, un po' di tempura, un po' di angoscia, sinceramente. Sinceramente, anche perché ci sono le rovine, sono state lasciate così, proprio a memoria permanente per tutti quelli che transitano per via Trieste, che lo ricordiamo, una via estremamente centrale, a due passi dal porto, dove si è subita la maggiore tragedia, naturalmente. Allora, Maglio, lasciamo un attimo questo passaggio e torniamo alle tue opere principali, lampade, ma non solo, il tuo amore per l'arte si traduce anche in tante attività, intanto te lo vediamo, ti vediamo presente anche in tante iniziative, perché sei un artista che intende partecipare a quella che è la vita, comunque, della nostra città, là dove ci sono momenti significativi, sotto il profilo culturale. Ci sei sempre, Maglio Midio, noi vediamo la sagoma di Maglio Midio dovunque. Beh, no, è interessante, perché cioè che ci sono molti ragazzi giovani che sinceramente hanno una gran voglia di esprimersi, soltanto che purtroppo mancano gli spazi giusti e di conseguenza è tutto un po' rallentato. Siamo, organizziamo in via Montegrappa, che fortunatamente è una via molto antica di Citecchia, che una volta al mese viene messa a nostra disposizione, a disposizione degli artisti artigiani, perché ormai c'è un connubio tra i due e sarebbe bello se questa situazione venisse anche, come dire, benedetta, da, tra virgolette, dal comune e da chi magari ha la possibilità di darci gli spazi giusti. Allora, noi come sempre da parte della nostra emittente approfittiamo delle nostre trasmissioni per lanciare un messaggio, cogliendo le tue parole, all'amministrazione comunale attuale, ma lo abbiamo sempre fatto anche in passato, veramente di sostenere, di sollecitare, di promuovere tutte quelle iniziative che arricchiscono la città sotto il profilo artistico e culturale. Questo messaggio è arrivato dal mondo della musica, dal mondo della danza e oggi arriva anche dalle parole di Maglio Midio che facciamo nostre, perché ci sembra importante. Allora, il tuo rapporto con il mondo della scuola, parlavi di giovani, allora è importante anche entrare nelle scuole laddove soprattutto si lavora con le mani, ci sono le scuole professionali. Sarebbe una cosa bellissima, ma non c'è la possibilità di fare questo, non c'è la possibilità perché la burocrazia in qualche modo ti taglia le gambe e in questo caso le mani. Anche in questo caso attraverso insomma il comune con l'assessorato alla pubblica istruzione forse anche chiedere ecco la possibilità di entrare, far partecipare i giovani. La cosa importante è che ci vorrebbero gli spazi per poter fare queste cose, io conosco un sacco di artisti e artigiani che ci avrebbero tanto da insegnare ai ragazzi giovani, da persone che lavorano nel vetro tiffani, a uno scultore, a me che faccio un certo tipo di lavoro. Chi produce gioielli, insomma c'è un mondo nuovo tutto da scoprire, sarebbe bello che fosse scoperto per tempo. Per tempo, allora io credo che queste parole sono importanti, noi le raccogliamo, le sottolineiamo e siamo certi che ci sarà qualcuno che le farà proprie e cercherà di trovare questi spazi che sono indispensabili per la creatività, per fare di Civitavecchia, così come tante altre città, anche quelle vicine a noi, che rendono giustizia a questi artisti che si prodigano per migliorare la qualità della vita di Civitavecchia e farla conoscere anche all'esterno delle nostre mura. Allora, Maglio, io approfitto, se vuoi dire qualche altra cosa, se no per te parlerà poi in video. Sì, appunto, c'è il video di Oliviero Corsetti, che è un mio amico, bravissimo, regista, filmmaker, che insieme abbiamo fatto questa cosa e racconta, secondo me racconta benissimo quello che è la mia storia artistica. e vi invito a guardarlo con attenzione perché è molto, molto bello e il mio amico è molto, molto bravo. Allora, grazie allora al tuo amico Corsetti e noi andiamo avanti e mostriamo queste immagini perché siamo certi che saranno apprezzate dai nostri telespettatori. Allora, buona ascolta e buona visione. Caravaggio, Caravaggio perché era Caravaggio? Perché riusciva a dare a luce degli effetti particolarmente, particolarmente belli e significativi. Allora, grazie a tutti. Rifletta una luce in questo modo qui. A me mi affascina. A me dà proprio la sensazione che c'è di un'anima, che sia qualcosa che vive, che vive di luce propria. Usare i materiali è sempre una sfida. È una sfida perché ogni materiale è, secondo me, un'anima. Spesso disegno, spesso, molto spesso, faccio disegno le mie lampade e in corso d'opera, tra disegno e elaborazione dell'opera, cambia assolutamente qualcosa. Cioè, ho disegnato un pezzo, vado a realizzarlo e mi rendo conto in quel momento che quel tipo di curva, quel tipo di movimento che vorrei dare all'oggetto è impossibile. Perché il materiale a quel punto mi dice, stop, non puoi andare oltre perché altrimenti facciamo una forzatura. Il materiale a quel punto mi dice, stop, non puoi andare oltre perché altrimenti facciamo una forza. In qualche modo i materiali ti danno un segnale, parlo dei materiali come parlo dei colori. Praticamente è come se ti dicessero, fermo, che più da di questo punto non puoi andare perché io non posso darti quello che tu stai cercando in questo momento. Spesso riesco ad adoperare cose che magari altre persone hanno scartato. Mi è successo di lavorare con delle biglie di vetro, con dei vecchi lampadari, con delle gocce di vecchie lampade. E questo è una cosa che mi intriga. Nel senso che quei materiali hanno una storia alle spalle. In qualche modo me la raccontano. Io riesco a dare loro una nuova vita. Quindi usando vecchi materiali che hanno una loro storia, riesco puntualmente a dargliene una nuova. di oggetti, di materiali, come vogliamo chiamarli. Che hanno in qualche modo all'interno ancora un'anima. Tu magari potresti pure tirarmela fuori. Questo mi fa ricordare un detto indiano che in ogni materiale c'è un oggetto. Sta all'abilità dell'artista riuscire a tirarlo fuori. E' l'emozione che c'è dentro a quell'oggetto. Che lo rende vivo, lo rende vero e lo rende soprattutto diverso. Diverso. Lavoro da artigiano, da artista è un'altra cosa. E' un'altra cosa perché investi su qualcosa che non saprai mai, o perlomeno è difficile sapere se qualcuno lo apprezzerà. Ma infatti c'è proprio la tigna. C'è proprio la tigna più totale. Spesso la gente non sa neanche che esistiamo. Non ci siamo. Non ci siamo perché appunto lavoriamo underground, nei laboratori che sono nascosti. Nesci fuori soltanto nel momento in cui organizzi magari una personale. E' la visibilità che ci manca. Questo è.